Buongiorno, quest'oggi resterò ancora un po' sul tema della contrapposizione e dell'individuazione perché da alcuni commenti che ho ricevuto mi sembra che ci sia ancora qualche cosa da comprendere. Intanto tra i tanti commenti, come dire, diciamo così favorevoli, ho ricevuto un commento sarcastico che mi paragonava a Gesù Cristo. Questo è uno degli aspetti. Quando noi facciamo tanta fatica nella vita a comprendere qualche cosa, siamo in viaggio, cerchiamo di migliorare noi stessi, di arrivare a vedere un po' più chiaro, poi quando lo facciamo ci sono quelli che ti catalogano. Se dici delle cose che suonano come sagge o così un po' fuori dalla norma, vieni considerato ironicamente un guru, uno che vuole insegnare, che ha capito tutto. Il fatto è che quando tu riconosci delle regolarità non puoi far altro che seguirle. La nostra società ha perso la memoria. cosa intendo per memoria? Intendo proprio la memoria filogenetica, la memoria di come funzionano le cose, di come le leggi naturali. guardiamo un fiume, l'acqua del fiume si chiede, vado a destra, vado a sinistra, passo questo sasso o non lo passo? Un albero che cresce nella foresta. si chiede, vado di qui, vado di là, come affronto questo ostacolo? O segue la propria natura, la forza interiore, questo benedetto sé che ci spinge, il progetto che abbiamo dentro che ci guida. Ora, il progetto che abbiamo dentro che ci guida funziona secondo una regola di non contraposizione, ma di trascendimento e inclusione, e l'individuazione, l'individuazione è qualche cosa che avviene ogni volta che io faccio del due l'uno, quindi è segno semplicemente di consapevolezza, di saggezza, trascendere e includere la contraposizione. Non ci possiamo fare nulla se la legge è questa. E allora, perché Cristo, metafora del sé, ricordiamoci, dice il mio regno non è di questo mondo, lascia tutte seguimi, il mio regno non è di questo mondo, non è del mondo duale, della contraposizione, lascia tutte seguimi, segui il sé, lo spirito, il padre che sta nei cieli. Chi è questo maestro che sta nei cieli? La tua volontà e non la mia volontà, se non questo seme interiore di seminatoci alla nascita di saggezza e di naturalezza. Quindi l'individuazione non è altro che lasciare che il sé agisca. E il sé non è contraposizione, mi dispiace. Poi ci sono quelli che dicono, sì, vabbè, ma però siamo obbligati a fare questo, quello, siamo in dittatura sanitaria, piuttosto che... La legge, se è legge, vale sempre, mi riferisco alla legge del due che si fa a uno, impara dall'acqua, impara dalla forza, dagli alberi, se vuoi trovare una soluzione, se vuoi trovare una soluzione, non cercarla nel dualismo, non cercarla nella contraposizione. Segui la luce o segui la tua direzione verso l'oceano. Cosa significa questo? Significa quello che diciamo da sempre, ci dobbiamo ripetere. Significa stai dentro, non farti guidare dallo spirito del tempo. Nello spirito del tempo dici, ma adesso come faccio che mi obbligano? Adesso quale sarà? Cosa mi aspetterà a settembre, a ottobre? Cosa mi aspetterà? Nulla se non la sfida di essere te stessa e te stesso. Nulla se non l'eterno gioco di riconoscere la legge e rispettarla. E la legge ha a che fare con il tuo ritmo interiore, col tuo codice interno. Non ha a che fare con le faccine del mondo, le quali sono solo un'opportunità. Tutte indistintamente. Non cadere nella guata della contrapposizione. Sì come l'acqua. Si tratta di ricordare. Non c'è bisogno di essere illuminati. O di fare il guru, signore sarcastico. Non c'è bisogno di essere illuminati.